musica che si veda che da subito l'idea l'acqua nel rugby perché il rugby era uno sport noto per essere una squadra importante nel campionato italiano e poi così far vedere questo stadio abbandonato con le erbacce musica oggi saremo nella zona rossa a fare altre situazioni altre cose abbiamo fotografato sia la gente sia le architetture di questa città abbandonata diciamo e quello che mi ha fatto più impressione è le strade del centro completamente silenzione musica la distruzione si fotografa prima di tutto con una grande tristezza perché si è presi da questa atmosfera di quello che è stata una sofferenza terribile al momento del terremoto al momento con i morti è una sofferenza che continua di questa gente come dire esiliata dalla propria città musica scusa a ridere perché la situazione è abbastanza triste musica musica della tendenza dell'aquila nel 2011 che poi si evolverà speriamo in meglio ma è fissato quello che è stato il dopo terremoto due anni dopo il terremoto basta finito grazie mille Grazie a tutti.